Marco Bonura, tecnico del Follonica Gavorrano, che spugna l'Armando Picchi in questa settima di andata in serie di Gironet. Un 3-0 lampante, probabilmente punisce eccessivamente il padrone di casa. Poco da dire sulle qualità della sua squadra, che in anella la seconda vittoria consecutiva resta in testa il suo giudizio, mister, su questa prestazione e sul risultato così importante. Prestazione della mia squadra, prestazione importante perché abbiamo concesso poco all'avversario, comunque ho visto diverse partite davanti al reparto importante, secondo me, dove temevo davanti alla loro velocità, alle loro ripartenze e chiaramente ho chiesto ai ragazzi soprattutto nella fase di possesso e quando passavamo nella fase non possesso, nelle transizioni negative, di statenti. L'abbiamo fatto bene, qualche volta non l'abbiamo fatto bene, però penso che la partita l'abbiamo quasi sempre condotta noi, abbiamo avuto tante occasioni, cinque pali, tre golfati, il portiere ha fatto diverse parate, quindi penso che l'unico rammarico ecco che bisogna probabilmente chiuderla un po' prima perché le partite vanno chiuse perché a noi ci è successo a San Donato, perdiamo tre uno tre pari e quindi l'unico neo che ci abbiamo avuto, un po' di sfortuna, un po' di imprecisione, secondo me la partita dobbiamo chiuderla un po' prima. Probabilmente anche insomma averla sbloccata così presto ha permesso di indirizzare questa gara in una certa maniera, poi sull'episodio della doppia c'è stata anche l'espulsione di Salemmo che ha costretto i bianco-verdi a giocarsi il resto del secondo tempo in inferiorità numerica, insomma a quel punto la gara era segnata, come dice giustamente lei, il Folonica Gavorano ha avuto l'occasione insomma di la gara e per poco non ci è riuscita, insomma in ottica classifica il peso specifico di questo risultato ha la luce anche del fatto che le concorrenti sono tutte andate a segno. Sì sì, sicuramente il gol come hai detto te, all'inizio ha un po' spaccato subito la partita, ci ha indirizzato secondo i canoni della mia squadra perché noi siamo una squadra che dopo la ripartenza anche noi possiamo farmare l'avversario, poi il 2-0 chiaramente con l'espulsione di Salemmo se non sbaglio e chiaro che poi la partita in quel momento l'avevamo in mano, però siamo stati bravi ripeto a concedere poco e avere tante occasioni, dopo quanto riguarda la classifica adesso come detto anche domenica scorsa dopo Arezzo adesso la classifica noi non bisogna guardarla perché siamo all'inizio e perché comunque si ha le squadre, ci sono diverse squadre che comunque stanno facendo bene, adesso oggi davanti abbiamo vinto tutte, dietro hanno vinto Misa tutte, Pianese, Poggi Bonsi, quindi è un campionato questo difficile, lo sapevamo, sapevamo che oggi era difficile perché sono contento perché dopo sembra tutto facile, quando vinci invece non sono facili queste partite come saranno quelle prossime, quindi bisogna avere questo tipo di atteggiamento che sta la squadra dall'inizio del campionato, adesso stiamo bene anche fisicamente, mentalmente, vedo una squadra che comunque sa quello che deve fare e questa è la cosa che più mi conforta. Giulone che lei conosce bene, mister l'anno scorso è stato protagonista anche su un'altra panchina, che differenze note e quali sono secondo lei, è vero che è ancora presto, ma le potenzialità della sua squadra visto il rendimento in corsa. La differenza è solo che vedo più squadre organizzate con giocatori importanti perché l'anno scorso probabilmente, poi l'anno scorso è un'annata anche particolare, c'è stato il Covid, sono stati parecchio fermi, quindi anche quello ha un po' influito soprattutto per qualche squadra che ha avuto, è stata falcidiata, viene in mente Sandonato, lo stesso Montevarchi dopo aver vinto il campionato, noi è vero abbiamo fatto un gran campionato come l'ha fatto anche la Pro Livoro l'anno scorso, quindi è chiaro che poi l'annata sono diverse i campionati, le squadre, ripeto quest'anno vedo più organizzazione, giocatori importanti comunque, quindi ripeto ogni squadra ti può mettere in difficoltà, l'anno scorso forse c'era qualche squadra un po' più, diciamo meno tecnicamente preparata e quindi è un campionato secondo me di questo un po' più alto come livello rispetto all'anno scorso. L'ultima domanda, mister ci consenta di rimembrare i suoi trascorsi qua all'Armando Picchi, stagione 99-2000, il Livorno in serie C-U, che cosa ha provato insomma salendo i gradoni e riscoprendo e ritrovando questo terreno? No, no, chiaro che dopo 21 anni che torno qui all'Armando Picchi è chiaro che quella era nata, io ero giovane, giocai poco, però mi ricordo che fu una bella esperienza perché eravamo una squadra importante alla carta, mi ricordo che c'era Igor, Protti, Carruezzo, Sturba, gente importante, dopo mi ricordo anche che facevamo delle finali con la Beretta, andai giù insieme al direttore responsabile del settore generale, l'attuale direttore qui da Pro Livorno, quindi ho avuto il piacere molto di salutarlo in amichevole quest'estate e adesso che sia prima della partita, adesso ho piacere di salutarlo. È un'altra importante, bella perché chiaramente è un'esperienza importante, è stata una piazza come Livorno, dove c'è pubblico, dove c'è amore, è chiaro che dopo ci sono rilasciato della medaglia, perché quell'anno facemmo male, mi ricordo diverse contestazioni da parte della gente, mi ricordo, invece poi l'anno dopo mi sa che, no, dopo due anni ando su, perché l'anno dopo vinse il Como, se non sbaglio, e dopo due anni ando su con Osvaldo Iaconi, mi sa, quindi mi ricordo queste cose, quindi è un peccato vedere chiaramente Livorno dove si trova adesso, è chiaro che è una piazza importante, spero che al più presto possa tornare nei campionati che gli compiete. Ringraziamo Mister Bonura, buon proseguimento di stagione. Grazie a voi, ciao.